Ciao a tutti e benvenuti e bentornati in un nuovo video, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare il video che ha come titolo Chi ti sta vicino? È sincero con te? Allora, voglio premettere già subito che non si tratta di una persona che sta vicino a voi a livello sentimentale. Potrebbe essere a livello sentimentale, potrebbe essere a livello un amico, un'amica. Dipende voi di chi volete sapere se è sincero nei vostri confronti. Magari state frequentando qualcuno, oppure avete un familiare o un amico che magari in questo periodo non si sta comportando come sempre e perciò magari avete dei sospetti e volete sapere se è sincero con voi. Indubbiamente qualsiasi tipo di persona vi venga in mente di cui avete un sospetto, di cui sospettate una non sincerità. Perciò adesso andremo a vedere con questo video se la persona che vi sta vicino o a cui voi state pensando è sincera con voi. Ricordo che un interattivo è valido sempre dal momento in cui viene cliccato e per il momento attuale. Ricordo che può essere rapportato a ogni settore della vostra vita lavorativa, sentimentale, familiare, di amicizia oppure personale. Cos'altro? Niente, vi ricordo che mi trovate anche su Twitch ogni domenica con una live dove se volete potete anche dopo la stesura potete anche farmi qualche domanda, seguitemi anche là e su TikTok ogni giorno faccio un breve video con una o più carte dipende da come si imposta la situazione in quel momento dove vi do un messaggio per ogni giorno. Perciò se vi fa piacere andatemi a seguire sia su Twitch che su TikTok. Abbiamo due varianti, la chiave con il quadrifoglio e la chiave con la farfalla. Scegliete la variante che più vi piace, la 1 o la 2 e noi adesso andremo subito a vedere se la persona che vi sta vicino, la persona a cui state pensando, è sincera con voi. Iniziamo con tutti coloro che hanno scelto la variante numero 1. Questa la mettiamo da parte e questa la mettiamo proprio ai piedi del nostro gnometto. Anzi, la mettiamo accanto così. Ecco, allora, innanzitutto andiamo a vedere che tipo di persona è questa che avete vicino. Vediamo se rispecchia qualcuno che conoscete, qualcuno che vi viene alla mente. Allora, andiamo a vedere subito che tipo di persona abbiamo. Abbiamo una persona molto positiva, abbiamo una persona molto positiva, una persona che porta a termine ciò che inizia. Certe volte porta a termine ciò che inizia, è molto determinata, ha molta forza. E' una di quelle persone a cui piace concludere, ecco, a cui molte volte non piace lasciare le cose a mezz'aria, non piace lasciare le cose incomplete. E' una persona che nella maggior parte dei casi, appunto, completa quello che ha iniziato, che sia a livello lavorativo, che sia a livello di amicizie. A quanto mi dice questa carta, dovrebbe essere una di quelle persone abbastanza schiette, cioè che dice ciò che pensa. Però, in altri casi, potrebbe essere una di quelle persone che, magari, se inizia un qualcosa è un po' titubbante, ha paura di non farcela, però poi, malgrado tutto, riesce a portare a termine ciò che si mette in mente. Allora, diciamo che come carta iniziale ci sono delle buone prospettive, però adesso, prima di tutto, dobbiamo vedere durante l'attesa cosa esce fuori, perché magari l'inizio sembra in un modo, però poi le cose possono cambiare. Allora, andiamo a vedere. Allora, è una persona molto passionale, è una persona che sembra guardi dritto negli occhi, però non disdice il fatto di, magari, voltare le spalle e andare per fatti suoi. Diciamo che è una persona, un tantino egoista anche, è una persona che porta a termine ciò che ha iniziato, però deve sempre avere un suo tornaconto. È una persona che sembra, appunto, diretta, però, se voi vedete bene questa carta, sembra diretta, però, in faccia non si fa vedere, gli occhi non li fa vedere. E, dato che dagli occhi sappiamo che si vedono molte cose e si capiscono tante cose, diciamo che è una persona che si prodiga verso di voi, è una persona che è molto presente nella vostra vita, però è come se, in certi frangenti, ecco che lo vedete, un po' sfuggente, ecco che lo vedete, un po' che si mette da parte, è come se non volesse farsi capire o non volesse avere a che fare con nessuno. È come se voltasse le spalle a chi si trova, diciamo, non dico in difficoltà, però magari, ecco, è una di quelle persone che è sempre presente, però nel momento in cui voi, magari, avete di bisogno, ecco che non ve lo ritrovate mai. Adesso volevo vedere con i messaggi quali sono le parole che, diciamo, escono dalla sua anima nei vostri confronti e poi da lì andremo ad analizzare quello che lui o lei vi dice. Dipende da chi mi sta ascoltando. Allora, andiamo a vedere cosa dice il suo pensiero nei vostri confronti. Sento che provi lo stesso per me. Sembro indifferente, ma non è così, come dicevo prima. La tua amicizia è preziosa, perciò aspettate un attimo, perché qua c'è qualcosa da dover capire. Sento che provi lo stesso per me, sembro indifferente, ma non è così. La tua amicizia è preziosa, perciò, come vi dicevo, è una persona abbastanza presente. Abbastanza presente, sente che voi ricambiate questa presenza, ricambiate questa forma di affetto che c'è fra di voi. Sembro indifferente quando volto le spalle, magari ho quel momento di indifferenza, quel momento che voglio stare da solo, infatti come mi dicevano le prime carte, ma non è così, perché anche quando, diciamo, mi allontano un pochino, sono sempre presente e tu sei sempre presente nei miei pensieri. Però l'ultima carta mi dice la tua amicizia è preziosa. Perciò qua parliamo di amicizia nei confronti di questa persona verso di voi. Adesso andiamo a vedere con i miei oracoli che cosa ci dicono le carte. Vediamo un po' cosa ci dicono su questi tre messaggi che lui o lei ha nei vostri confronti. Prendiamo un mazzettino, così possiamo mischiarlo meglio. Allora, vediamo un po'. Qua dobbiamo capire se questa persona che vi è vicino è sincera con voi. Allora, sento che provi lo stesso per me e mi esce la chiusura e la libertà. Questa è una persona che non vuole legami. È una persona che non vuole assolutissimamente legarsi troppo a qualcuno. Sì, è vero che è presente. È vero che ci potrebbe essere fra di voi anche dei momenti di passione. Passione legata anche a livello lavorativo in una sorta di molto feeling, molta intesa nei progetti, nelle cose da discutere. Potrebbe anche essere una forma di amicizia molto stretta. Potrebbe essere anche un qualcosa che per uno dei due si sta trasformando, ma per l'altro sicuramente no. Provi lo stesso per me. Si augura che voi proviate lo stesso per lui o lei. Nel senso che lui o lei per voi prova amicizia. Perciò si augura che anche voi proviate amicizia nei suoi confronti. Perché se no ci sarebbe una chiusura. Perché non assolutamente non vuole rinunciare alla sua libertà. Andiamo a vedere. Sembro indifferente. Ecco che il perché lui sembra indifferente ma non lo è. Sembra indifferente ma non lo è perché lui soffre di una sorta di prigionia dovuta a una forma di ansia che gli scaturisce quando le altre persone o le persone a cui viene hanno dei problemi. In che senso? Questa figura, questa persona che vi sta vicino è sempre presente, ma nel momento in cui vede che c'è un problema effettivo, che c'è un problema attuale, un problema pesante, gli viene una forma di ansia che purtroppo non riesce a controllare. Ecco che non si vuole, non vorrebbe essere indifferente ai vostri occhi, però purtroppo questa forte ansia di cui soffre, di cui ha questo tipo di problematica, lo fa sembrare indifferente ma non è. Perché lui sta male due volte. Sta male perché sta male proprio a livello fisico, perché si sente in questa forma di ansia che lo fa stare male. Doppiamente sta male perché si fa vedere indifferente e dentro non lo è e si trova con le mani incatenate perché purtroppo vorrebbe aiutarvi ma non riesce. Adesso andiamo a vedere cosa ci dice sulla amicizia. Abbandono. Chiarezza. Allora è una persona abbastanza chiara questa. Abbastanza chiara perché qui mi porta abbandono e la tua amicizia è preziosa. Allora questa persona o è stato abbandonato e perciò non vuole più legarsi sentimentalmente a nessuno e preferisce lasciare il tutto a livello amichevole. E per questo fa chiarezza, cioè vi dice io per te sono semplicemente un amico, sono un amico fidato, sono un amico di cui ti puoi fidare, però il nostro rapporto si deve basare sempre a livelli di amicizia. Non ci deve essere nient'altro perché se no io tendo ad abbandonare tutto, perché non riesco a legarmi a qualcuno, perché già lui ha subito un abbandono, non ne vuole subire un altro e perciò è chiaro fin dall'inizio. Scusate, adesso andiamo a vedere che tipo di carta c'è proprio vicino al nostro personaggio. Vediamo un po' con le miele normande e poi andremo a prendere anche i tarocchi. Vediamo un po', andiamo a capire cosa c'è vicino al nostro amico. Vediamo, sempre nei vostri confronti a livello di sincerità, ma qua mi porta anche a livello di amicizia. Ecco qui. Allora, questa persona pur di non soffrire e di non far soffrire, cosa fa? Si priva, si priva e cambia direzione. Come dicevano le carte prima, l'abbandono. Si priva e cambia direzione, perché già una volta lui è stato privato di un qualcosa di importante e ha dovuto cambiare direzione, si è trovato bene facendo questo tipo di ragionamento e perciò nella sua mente è scaturita questa forma di loop che lui mette le cose in chiaro, ma se vede che la situazione va a degenerare a livello di non più amicizia, cosa fa? Abbandona tutti e se ne va. Cambia direzione completamente perché non vuole né essere abbandonato, ma né tantomeno far soffrire gli altri. Adesso andiamo a vedere con i nostri tarocchi cosa ci dicono per quanto riguarda sempre il messaggio che c'è stato all'inizio. Vediamo un po' quali sono i messaggi dei tarocchi su queste tre carte. Sento che provi qualcosa per me. Cosa ci dite su questa carta? Sento che provi qualcosa per me. Vediamo un po'. Ecco, qui abbiamo una persona, come dicevo, molto attiva all'inizio, è una persona molto attiva, una persona che vi raggiunge, sta bene con voi, piace stare insieme a voi, state bene tutte e due insieme. Sento che provi lo stesso per me. Cioè lui sta tanto bene con voi perché vi vede molto simile a lui, vi vede molto simile a lui e avete un buon affiatamento. Siete delle persone, diciamo, che correte insieme, come si suol dire. Siete delle persone che avete molto in comune e sapete, diciamo, divertirvi anche insieme. Dico che sapete lavorare e sapete anche divertirvi insieme. Al di là che sia una semplice amicizia o che sia un'amicizia un po' più intima, ma non ci sono e non ci devono essere ulteriori legami. Sembro indifferente ma non lo sono. Ecco, a lui piace stare con voi. A lui piace stare con voi è una cosa che proprio a certi momenti desidera e non desidererebbe questa forma di indifferenza che purtroppo ogni tanto scaturisce in lui quando non si sente tanto sul pezzo, non si sente tanto bene, però è, diciamo, molto attratto dalla vostra persona, anche direi a livello fisico. È molto attratto dalla vostra persona. Non vi vorrebbe perdere assolutissimamente. Però devo dire che potrebbe essere una bella amicizia, un bel rapporto di lavoro, un bel rapporto familiare, qualsiasi sia il vostro tipo di, la vostra sintonia è una sintonia che va piuttosto bene. Ecco qui che, appunto dicevo, in base a quello che lui ha vissuto, in base al suo passato, ha trovato questa forma di equilibrio, questa forma di guarigione, cioè lasciare tutto a livello amichevole, non andare oltre l'amicizia, non andare oltre quello che può essere un rapporto amichevole, anche se oggi come oggi ci sono rapporti amichevoli che arrivano anche all'intimità più profonda. Ecco che a lui questo piace, però non vuole assolutissimamente che si rovini con un rapporto ufficiale. Quello che posso dirvi è che sì, la persona che avete vicino, la persona a cui state pensando, la persona che avete accanto, è sincera con voi, è sincera fino a che il rapporto rimane su questi livelli. Se dovesse scattare un gradino in più, penso proprio che non lo vedreste mai più. Comunque questi, diciamo, sono particolari e legati sempre al vostro tipo di relazione. Bene, prima variante. Come sempre, se vi fa piacere, vi aspetto nei commenti. Mi raccomando, seguitemi anche su Twitch e su TikTok. I link li trovate giù sotto il video. E io passo alla variante 2. Eccoci con la variante numero 2 per chi ha scelto il simbolo della farfalla. Allora, andiamo subito a vedere che tipo di persona abbiamo per la variante numero 2. Vediamo cosa ci dicono i nostri arcani. Ah, benissimo. Allora, qui abbiamo una persona che come indole è molto, diciamo, femminile. Anche se un uomo è un qualcuno che sa apprezzare il lato femminile delle donne, è un qualcuno a cui piace magari prendersi cura di sé, non so. Magari piace andare a farsi... Cioè, è una persona che è come una donna sotto un certo punto di vista. Gli piace essere sempre a posto. È una persona che ama stare con la natura e soprattutto è una persona che si prodica per aiutare gli altri. Però deve essere nel suo ambiente. Prima di tutto deve stare bene con se stesso. Se riesce a stare bene con se stesso, ecco che si prodica per aiutare gli altri. E diciamo, ha questo lato femminile che lo, diciamo, contraddistingue. Il lato femminile non significa effemminato, ma significa che gli piace il vestire bene, gli piace prendersi cura di sé, gli piacciono le belle cose. Ecco. Andiamo a vedere adesso. Vedo che c'è un bel legame fra di voi, eh? Qui c'è un bel legame fra di voi e una persona che si sente unito a voi in un certo senso, però c'è un però, è un po' tormentato. È un po' tormentato o è una situazione che lo tormenta? Lo tormenta perché c'è un qualche cosa che magari vorrebbe qualcosa in più, vorrebbe arrivare a qualcosa in più con voi, però è una persona che quando sta con voi sta bene, si sente molto legato, ma quando è da solo è tormentato abbastanza, tormentato da qualcosa che gli frulla per testa, che adesso vediamo di capire di che cosa si può trattare, però o si tormenta per il fatto che vorrebbe di più e non lo riesce ad ottenere, o c'è una qualche situazione che lo sta tormentando e quando è solo, purtroppo, i suoi pensieri ritornano a questa situazione. Vediamo un po' cosa ci dicono. Ah, no, 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 scusate, dobbiamo fare... Scusate, ogni tanto mi distraggo. Comunque, avevamo detto che si sente molto legato a voi, sta bene con voi, ma quando è solo, purtroppo, ritorna in una sorta di limbo dove i suoi pensieri lo fanno stare male. Avevo dimenticato i messaggi. Vediamo quali sono i suoi messaggi nei vostri confronti. Ok. Dobbiamo trovare una soluzione. Perciò c'è già un qualcosa che non gli quadra nel vostro rapporto. Meriti di più, apposta si tormenta. E la mia paura è di averti perso. Allora, qui abbiamo una persona che ci tiene a voi. Ci tiene a voi perché c'è un qualcosa fra di voi che in questo periodo non va tanto bene. Ripeto, sentimento, amicizia, famiglia, lavoro, personale, qualsiasi tipo. E dobbiamo trovare una soluzione. Lui, diciamo, vuole migliorare il vostro rapporto. Nel contempo, si affligge appunto con la carta del pensiero. Si affligge con questa carta perché dice tu meriti di più. La mia paura è di averti perso. Ecco perché una parte del suo tormento è appunto questa. Adesso prendiamo giustamente i miei oracoli. Allora, dobbiamo trovare una soluzione. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli su questa soluzione da trovare. Vediamo un po'. Solitudine, nuovo amore. E allora qui mi viene da pensare che questa persona ha paura che voi possiate trovare un qualcuno diverso da lui o di un qualcuno a cui voi, diciamo, con cui voi state meglio, con cui voi provate un sentimento diverso. Allora diciamo che qua siamo forse a livello di amicizia. Siamo a livello di amicizia da una parte e di sentimento profondo dall'altra. Oppure potrebbe essere anche nel settore lavorativo. In che senso? Dobbiamo trovare una soluzione perché se tu cambi lavoro o se ti arriva un collega dove ti trovi meglio, io rimango da solo. La situazione è questa. Dobbiamo trovare una soluzione perché questa figura, questo soggetto, ha paura che voi troviate qualcosa di nuovo, che sia una situazione nuova, un lavoro nuovo, un collega nuovo, un amore nuovo, una persona nuova e che rimanga da sola. Ecco appunto la questione della prima carta, la solitudine. Vediamo cosa ci dicono gli oracoli sul meriti di più. Vediamo un po'. Meriti di più scappare e felicità. Allora meriti di più perché questa persona ha paura che voi appunto da un momento all'altro troviate qualcosa di diverso, questa persona rimanga da sola e voi scappiate verso la vera felicità. e diciamo che la sua paura è il fatto che sta troppo bene con voi, infatti la mia paura è di averti perso. C'è un qualcosa in questo momento che lo tormenta. O vi sta capitando qualcosa di nuovo e gliene avete parlato, o avete parlato con questa persona delle idee nuove che vi sono venute in mente e avete fatto scaturire in questo soggetto una sorta di paura di rimanere da solo perché voi, diciamo, in fin dei conti non avete ancora capito ciò che c'è nella sua mente. Vedete segni, appunto, i segni che lui vede e nascondere. Allora ci sono dei segni in questa situazione, cioè lui vede dei segni e ha paura di avervi perso. Questi segni, diciamo che sono alla luce del sole, ma sono nascosti ai vostri occhi, cioè come se li vede semplicemente lui, questi segni di un vostro comportamento un po' diverso, di qualcosa che sta cambiando in voi. E scaturisce in questa persona questa forma di paura, appunto, questa forma di paura di rimanere da soli perché voi state pensando a qualcosa di bello e qualcosa di nuovo. Magari voi gli avete parlato di un trasferimento, magari, gli avete parlato di un trasloco, volete cambiare casa. È un qualcosa che riguarda voi di novità che a lui fa paura perché lui non vuole rimanere da solo e soprattutto non vuole rimanere senza di voi, al di là del rapporto che c'è fra di voi. Andiamo a vedere adesso cosa c'è proprio vicino al nostro amico o amica, indipendentemente dalla figura. Allora, ecco qua. Allora, lui vi vede come un qualcosa di meraviglioso, come un qualcosa di bello, come se voi siete arrivati nella sua vita e avete portato la gioia, la felicità, la fortuna e tutte cose. Però in questo momento c'è questo blocco vicino a lui, questo blocco che non riesce a fargli apprezzare i momenti che passate insieme. Perché purtroppo quando c'è un pensiero ossessivo, quando c'è un pensiero che tormenta, è logico che non ci si riesce a godere quello che si ha accanto. In questo momento questa persona si trova così, si trova con questi segni che gli vengono giorno per giorno davanti agli occhi. Questa sorta di pensiero meriti di più e perciò ha paura che voi scappiate verso una felicità nuova che non sia lui e che lui rimanga da solo. Perciò si trova in un momento un pochettino di, non so, di frastuono, di, come dire, di confusione. Ecco, non mi veniva la parola, appunto, di confusione. Andiamo a vedere coi tarocchi, andiamo ad approfondire cosa ci dicono sui messaggi. Vediamo un po'. Mettiamo questi su. Ecco qua. Adesso vediamo cosa ci dicono i nostri tarocchi su dobbiamo trovare una soluzione. Più che altro deve trovare una soluzione perché se a voi capita qualcosa di nuovo e qualcosa di importante o di conveniente è logico che lo dovete accettare al di là di quello che lui può pensare. Allora, eh, qui c'è una lotta. Allora, presumo che il vostro cambiamento sia un cambiamento per molti di voi lavorativo, eh. Sia un cambiamento lavorativo. Eh, però qua mi viene la lotta. Mi viene la lotta perché c'è appunto questa soluzione da trovare perché in questo momento siete un po' in conflitto con questa figura, eh. Siete in conflitto con questa figura perché voi avete un'opportunità di cambiamento, l'opportunità di migliorare qualcosa nella vostra vita, però nel contempo avete questa persona che diciamo un pochettino vi rema contro e che purtroppo vi sta mettendo, diciamo, un po' in difficoltà. Ecco, meriti di più. In più questo è il lavoro. Questo è il lavoro che, diciamo, va avanti. La vostra situazione lavorativa o il vostro progetto, qualsiasi cosa sia che sta crescendo, sta portando dei buoni frutti, cioè tutto quello che voi avete fatto, in passato adesso è il momento di raccogliere e di continuare, diciamo, a riseminare, cioè come si fa con il raccolto. Però, appunto, c'è questa forma di, non dico di pessimismo, ma lui vorrebbe che voi non accettaste questa forma di cambiamento. Sa che voi meritate di più, sa che questo merito sta arrivando nella vostra vita, però nel contempo il suo cuore vorrebbe che tutto finisse all'istante. La mia paura è di averti perso. Cosa ci dite su questa carta? Vediamo un po'. Eh, infatti, qua c'è una forma bella di indecisione e di stanchezza. Allora, che cosa significa questo? La mia paura è di averti perso. È in un momento di, lui, di stanchezza, di fermo, di indecisione. Non sa come comportarsi con voi. Perché? Ve lo spiego subito. Perché lui davanti a voi è come se vi incoraggiasse. Infatti, cosa ci dicono le prime due carte? Ci dicono che state bene insieme, siete amici, siete colleghi, tutto va bene, eccetera, eccetera. Poi, quando è solo, ecco qua quello che succede. Che cosa succede, infatti? Che è in una forma di indecisione quando è solo. Non sa come comportarsi. Che cosa fa? Vi incoraggia? E poi vi mette i bastoni in mezzo alle ruote? Perché c'è qui questa forma di non dico di freno, ma c'è questa forma di reticenza nel dire realmente tutto quello che pensa. E tutto quello che pensa è dettato dal fatto che lui vorrebbe che voi non accettaste questa forma di lavoro, questa forma di opportunità. ma vorrebbe semplicemente che voi rimaneste dove siete senza questa... anche se sa che voi meritate di più, però in questo momento vorrebbe che voi rifletteste di più perché si vede che voi siete stati talmente entusiasti di questa novità che lo avete travolto e poi lui, quando si è fermato a riflettere, dice, ma un attimo, se lei accetta, se lui accetta, io lo perdo. Questo è il suo discorso. Perciò, se parliamo a livello di sincerità come persona, sì, ci tiene a voi, è sincero, però non è sincero in quello che esprime. Cioè, è come se lui vi dice una cosa, lei vi dice una cosa, ma nel suo profondo non è realmente quello che pensa della situazione che avete in comune oppure che vi sta capitando a voi. Ecco, la non sincerità non è nell'affetto che prova per voi, ma è nell'esprimere realmente quello che sta pensando, perché di fondo non pensa realmente quello che vi dice, pensa tutt'altro, pensa tutt'altro perché ha paura di perdervi. Bene, seconda variante, questa è la vostra stesa. Come sempre vi aspetto nei commenti se vi fa piacere, se vi siete ritrovati, se è una situazione che vi risuona. Come sempre vi aspetto ogni domenica su Twitch per una live dove possiamo anche interagire, potete anche interagire con me. Vi aspetto anche su TikTok, seguitemi anche lì dove pubblico ogni giorno una carta, la carta del giorno. Per informazioni sui consulti, l'indirizzo lo trovate giù sotto le info, giù trovate anche i link per iscrivervi agli altri social. Io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Grazie. Grazie.